Oggi ho giocato un bel po' e ho fatto in modo che avevamo tutte le missioni finite, non le ho praticamente fatte Cioè, sentite che registravo la vita in città, mi fermavo, mi fermavo, entravo, mettevo a fare le cose Cioè, fantastico, veramente, veramente bellissimo, veramente bellissimo Allora, da cosa partiamo? Io partirei da fare un pochettino di cose Tipo, questa cosa che mi da 160, oh yes, facciamola subito Però, mamma mia, ancora 7, raga, ma basta, lo zucchero me ne chiede tantissimo Ah, qualcuno ha aiutato, vogliamo un po'? No, Lollo mi ha aiutato, ma sei un king, Lollo, ma Lollo, ma tu sei un king Allora, qui possiamo prendere un bel po' Ok, sì, lo spiano, siamo sempre vieni, siamo, un po' di soia rimettiamola Allora, andiamo a fare intanto il pass battaglia, il sentierino, ci dà 230 Bono, 230, bono Ok, qua facciamo così, qui facciamo così Sapete una tecnica che ho visto online di un tizio che fa i livelli facendo solo il grano? Gioca solo il grano, 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 che ti dà più 2, mi pare È totale come cosa Uh, questo è quel formaggio È formaggio, raga, lo sto facendo Il formaggio è il prossimo 42 minuti Già fatto? Allora, allora, allora Cosa dobbiamo fare qua ragazzi? Siamo quasi a livello massimo Io direi che aspettiamo Aspetta, qua ci abbiamo lo zucchero Che ci dà più 4 Mettiamo a fare Conviene fare lo zucchero Eh sì, conviene fare lo zucchero ancora questo qua Va bene, ecco il grano Fatto! Oh, yes! Woo! Abbiamo un sacco di cose nuove che possiamo fare Oh, oh, oh! Questo tizio chi è? Tom? Me lo ricordo Tom Cosa faceva Tom? Era uno che ti dava una mano, tipo Non mi ricordo Ciao, sono Tom E posso aiutarti nelle commissione Ti aspetto alla bancarella Ok, proviamo Ah, che figata! Cioè, io gli chiedo questo E lui me lo cerca Vediamo, inizia a cercare E lui me lo porta per quando? No, ho capito Cioè, così a caso Lui torna, prende, porta Bello, non me lo ricordi Questa cosa qui non me la ricordavo Me l'ha già trovato Ma io non mi ricordavo fosse così veloce Alla, 72! Ma subito, broscock! Ma, è andato via? Ma non, non, cioè Va via e non me lo ricordavo questo tizio qua, raga Forno pasticci Cosa 2200 Lo metterei direttamente qua Quanto ci vuole per far? Anzi, lo metterei qua Poi abbiamo le cose di decorazione Mi pare che io posso guadagnare poi un botto di roba Tramite le decorazioni Ok, cos'è che possiamo fare? Ma questo 33,52, non male Oh, è tornato Allora, cosa mi potrebbe servire da lui? Un po' di zucchero Se mi dà lo zucchero non sarebbe male Campione, dammi lo zucchero Allora, devo proprio riposare Ma come tra un'ora? Ma campione, no, no Bro, dai, fammelo partire con le gemme Allora, io direi di fare una cosa molto bella Adesso qua facciamo tutto grano Tutto grano Tutto grano Questo mancano le carote Mancherebbe lo zucchero Giustamente Allora, facciamo così Vi chiedo lo zucchero a voi In teoria, se io vado qua Posso richiedere ancora Io voglio lo zucchero E ne ho bisogno di 5 Richiedi Ah, ho chiesto Ho usato le gemme Allora, a sto punto Questi qua li possiamo dare Vamos Abbiamo finito anche un altro obiettivo del pass E quindi possiamo sbloccare un bel po' di cose Di conseguenza Andiamo subitissimo a vedere cosa sblocchiamo Allora Ok Sblocchiamo Ah, queste cose qui possiamo Avere degli slot aggiuntivi Eh, sì Mettere direttamente i popcorn Poi abbiamo soldi Soldi Che cos'è questo? Non ho capito cosa sia questa cosa qui Cos'è? Non ho capito che cos'è Comunque abbiamo già finito il pass praticamente Oggi l'ho preso Allora, qua Oh, grazie per queste cose qua, raga Intanto Quindi di conseguenza posso finire questa roba Che mi dà 91 Questo vuole il formaggio Potrei chiedervi il formaggio Però devo continuare a utilizzare le gemme Allora, potremmo farlo perché oggi Aspetta, un popcorn non l'ho fatto E posso finire anche questo qua subito Vamos Possiamo già fare quella dopo Vedi che ho già fatto il burro Lo son messo bene Buono Che bello Dici ma questa 10 Pochissimo Ma io ti prendo due di queste Te li prendo due di queste Ma io ti prendo tutto Ma Martieco Oh, Martieco ci ha fatto La spesa che mi ha fatto fare Oh, Martieco Grazie mille Grazie mille a Rebsfarm Grazie mille Ti ho preso un botto di popcorn Grazie, 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 grazie mille Raga, mi stai dando una mano enorme Per questa cosa Non avete idea Facciamo Mettiamo a crescere qualcos'altro Cosa metto a crescere? Metto a crescere Come dice Loco La canna a zucchero Dai Raga, secondo me Ce la facciamo a fare il livello 15? Eh, sì Anche per tornare un po' a livello A cui ero Per 4 a 1 Per 3 a 1 Grazie mille a CQ CQ King CQ King C'è da cose Io sono full, raga Sono full di roba Mi sa che devo Devo riempire questo qua Aumenta capacità Senti, questo lo prendiamo brutalmente Se ne frega Ma io Questa si prendo Oh, 5 panchecca a 1 Folle DRIPS Ma sei un folle Ma raga Ma voi siete dei folli Posso fare tutte le missioni, loco Sì, speciale, raga Allora, io dovrei Per essere al livello di cui In cui ero nell'account precedente Dovrei essere al 30 Oh, questo che è 62 Mi chiamo Loco Sono un gattino Oh, oh Attenzione Attenzione, raga Meno 100 Oh, livello 15 Allora, adesso possiamo fare le zucche Possiamo fare i pomodori L'altra cosa Bene, bene Hai visto la tua nuova casetta Della posta? Credo che sia per me Qualcuno Non ti senti fischiare Chi sta arrivando? Chi sta arrivando? Ma perché c'è un postino? Scusami Perché? Perché c'è? Io non mi ricordo Raga, 8 anni fa giocavo Se ci sarai Grazie mille Gift card Totale buoni omaggio 0 di 40 Tieni tutto Allora, cosa possiamo costruire adesso? Vediamo Pascolo per le mucche Ne posso mettere un altro Interessante Però in realtà Non è che ne abbia molto bisogno Delle mucche Per adesso Così, così va già meglio Adesso mi odiate Sicuro mi odiate Raga, sto per mettere Sto per mettere Una vite A uno Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Un secondo Due Aspetta, aspetta, aspetta Uno Zero virgola cinque Vai, vai, vai Zero virgola cinque Messa No, 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 no Potremmo dire che era sul terzo slot Potremmo dire che era sul terzo slot Era sul secondo in realtà Era il terzo slot Io vado da Matti E vado ad upgradeare questo Posso upgradearlo? Raga, comunque grazie a voi Sto tornando Alla Alla farm che avevo prima Cioè, è assurda sta cosa Io non so come Io non vi smetterò mai Di ringraziarvi, penso Oggi non puoi Quest'altro oggetto Espansione o materiale Per i miglioramenti Riprovo domani Ti limito il giorno Ero 80 Ehm Sì Raga, toglieteli tutti Chi ce ne ha A uno, toglieteli Vi faccio un bel regalo Anch'io Metto Una vite A sette Ma quanto sono veloci Ma quanto sono veloci Quanto sono veloci Ma se la porta Vi metto Vi metto Anzi adesso Non ve lo dico cosa vi metto No, ve lo dico Anzi Metto una roba Vediamo se la comprata al massimo Tutto, tutto Ma quanto sono veloci Quanto sono veloci A prescindere di tutto A prescindere di tutto Metto un'altra vite Questa volta Quanto la metterò ragazzi Al massimo O non al massimo Ma quanto è veloce Quanto è veloce Ne ho messo una al massimo Hai visto? Ne ho messo una a uno E max farm Se la porta a casa Dove, dov'è Dov'era Dov'era Siete lì con quattro dita A schiacciare Tutto Abbiamo tutto raga Abbiamo veramente tutto Io direi che Io direi che Arriviamo a livello 16 E stacchiamo la live Poi Questa vuole 5 carote Ma le carote Ce le stiamo facendo Quanto manca le carote 4 minuti Qualcosa di livello alto Oh vedi che ho fatto bene E fare il formaggio Te l'ho detto Che ho fatto bene 284 Raga qualcuno A livello 16 Qualcuno sta raggiungendo l'oco Siamo al 16 Allora possiamo mettere un po' di cose Quindi iniziamo un po' A investire un po' di denaro Possiamo mettere il pascolo delle pecore Dove lo mettiamo il pascolo delle pecore? Lo metterei qua Momentaneamente Possiamo spostare questa cosa qui Che l'ho messa totalmente a caso E ci mettiamo anche l'altro pascolo delle mucche Che eccolo qua Lo mettiamo qua momentaneamente Ci buttiamo dentro le pecore Che costano una cifra le pecore Raga Quindi grazie mille di avermi dato Raga ero a un sacco di soldi Non ne ho più tanti adesso Ok E avevo 10.000 Avevo 10.000 raga 10.000 avevo Guardate quanto ho adesso Io metto le piante fiorite Tecnicamente dovrei fare la missione Esatto Ecco qua Altra missione fatta Qui raga stiamo proprio sgravando comunque Ok Allora siamo in una situazione molto complicata Perché siamo pieni di roba in questo momento Allora intanto facciamo così Accettiamo tutte le richieste rimanenti Dimo Ma non devi Perché Allora io posso mettere i preferiti Dimo Come si fa a mettere? Ci può mettere qualcuno dei preferiti ragazzi? Dimo mi fa fare i soldini Mi fa fare Ciao Grazie a tutti.